Lasciare il veicolo in sosta a lungo con temperature esterne elevate? Nessun problema con il nuovo Actros. Grazie al climatizzatore autonomo Independent Air Conditioning, durante le pause e i tempi di riposo viene mantenuta una temperatura piacevole e la cabina di guida viene costantemente deumidificata. Ma come esattamente? Il climatizzatore autonomo consta in sostanza di due gruppi costruttivi. Da un lato l'impianto di raffreddamento nella cabina e l'accumulatore frigorifero con elettrovalvola del climatizzatore autonomo e dall'altro la pompa di circolazione per il liquido di raffreddamento. L'elettrovalvola permette, anche in assenza di corrente, il passaggio del fluido refrigerante R134A nell'evaporatore del climatizzatore confezionale. Il fluido refrigerante scorre attraverso due tibuzioni separate fino all'accumulatore frigorifero e quindi torna al climatizzatore convenzionale. Il circuito del liquido di raffreddamento è completamente separato da quello del fluido refrigerante. Sull'accumulatore frigorifero è posizionata una valvola di espansione che inietta il fluido refrigerante nei tubi dell'accumulatore. Questa valvola di non ritorno divide il ritorno del fluido refrigerante del climatizzatore autonomo da quello del climatizzatore convenzionale e questa elettrovalvola blocca in assenza di corrente il passaggio del fluido refrigerante all'accumulatore. Il sensore di temperatura si trova qui e questa è la pompa del liquido di raffreddamento. Naturalmente a disposizione anche un raccordo di manutenzione per riempire e svuotare il liquido di raffreddamento. L'accumulatore frigorifero consta di diversi strati di grafite. Tra questi strati si trovano delle serpentine di refrigerazione per il riempimento e serpentine di acqua glicole per lo svuotamento. L'impianto di raffreddamento è posizionato nella parete posteriore della cabina con lo scambiatore di calore, il motorino del ventilatore, la centralina del climatizzatore autonomo, tre bocchette di areazione e due bocchette di aspirazione. Con il climatizzatore autonomo nel nuovo Actros potrete sempre mantenere la menta al fresco, anche nei giorni più caldi. Grazie. 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 Grazie.